Siete scesi in campo già da tempo per questa vicenda e non volete fermarvi? A ragion veduta vi illustro la delibera numero 712 del 30 aprile 2021 dove si mandano a casa gli OSS e si prendono altre figure, la ASR. Tenete presente che la ASR ha mandato a casa questi signori perché c'è stato un indirizzo politico della regione Abruzzo nel quale si diceva che non si poteva attingere più ai lavori somministrati perché il costo sarebbe lievitato. Il 30 aprile, il giorno della scadenza di queste persone che sono tornate a casa, la ASR prende 15 persone di ausiliario sociosanitario per il barellaggio. Quando c'è già un servizio di barellaggio di una società che ha vinto questo servizio che è la Clean Service, quindi si è creato un doppione nel doppione. Poi si prendono due infermieri, ma le infermieri, se è stato fatto un avviso pubblico, ci sono state delle gradatorie. Allora perché non si attingono dalle gradatorie e in questo caso invece si attinge sull'agenzia interinale? Gli OSS vengono mandati a casa perché erano interinale e si devono attingere sulla gradatoria, qui invece si fa l'esatto contrario, c'è un'incongruenza. E poi sono state prese un amministrativo, più ovviamente degli ostretici ed altre persone, per due mesi. Sapete quant'è la cifra di questi due mesi, di questi operatori? 329.633,20, IVA esclusa. Chiederò alla ASL e poi al Sindaco, che è il Presidente ovviamente ristretto dei sindaci, di provvedere all'annullamento, ripeto, all'annullamento di questa delibera, perché questo è un vero e proprio spreco di denaro pubblico. Chiarezza perché non si può partire da assurgere ad eroi persone che hanno dato tantissimo in un periodo molto difficile, prima chiamarli eroi, poi angeli e poi di fatto sbatterli fuori senza alcuna possibilità. Questa schizofrenia ci sembra assurda e quindi chiediamo più attenzione, nel rispetto chiaramente delle procedure pubbliche, perché sono assolutamente necessarie la trasparenza, ma anche che ci sia un giusto riconoscimento per chi nel periodo più difficile della pandemia ha dato tutto se stesso salvando delle vite umane. Di fatto oggi si ritrova completamente fuori da ogni possibilità di rientrare a lavorare, pur avendo lavorato benissimo. Questo è il paradosso che noi vogliamo denunciare e a cui chiediamo di porre rimedio. Questo è un riconoscimento giusto che devo io come persona che ho vissuto quel periodo e ho avuto contatti con tante persone come loro, ma come ruolo politico insieme al gruppo per far sì che la regione possa prendere in considerazione questa veramente condizione di eroi e di vocazione che loro hanno avuto in un periodo difficile. Non dobbiamo dimenticarci tutto quello che noi abbiamo fatto e detto per loro oggi arriva il momento che l'amministrazione, la regione, la politica deve dare risposte a queste persone che hanno lasciato i propri familiari, i propri figli andando senza vaccini, ripeto, senza sapere che cosa e che tipo di cura poter fare dentro questo nuovo ospedale Covid.